Salve a tutti ragazzi, io sono Mike e questo è Mike's Tech. Tranquilli, il microfono che sto utilizzando ora è sempre il Rode. Ma come avete potuto vedere dal titolo, oggi siamo qua con un test. Sto parlando del test di ben tre microfoni, ovvero del Rode, dell'Onair e dell'Avalier. Il Rode sarà collegato alla mia Canon 700D, l'Onair sarà collegato al mio computer tramite il cavo XLR e il BlueSmart sarà collegato al mio iPod Touch di quinta generazione. Per assicurarvi che qua c'è il mio microfono, il Rode è quello qua e sta funzionando proprio ora. E noi lo riportiamo su. La qualità che stai sentendo ora è l'audio della mia Sony HX90, ok? È parecchio schifoso ora perché sono parecchio lontano. Purtroppo non posso farvi sentire anche l'audio della Canon. Ditemi se vi piace questa doppia inquadratura con la Canon e con la Sony di qua. O in questo caso la Sony qua perché quando ci saranno i video esattamente fatti bene al tavolo, la Sony sarà sopra. Ora sto registrando simultaneamente da tutti e tre i microfoni. Quindi facciamo un piccolo test. Questo è l'audio del Rode Video Micro, il microfono che utilizzo normalmente per tutti i miei video. Questo è l'audio del BlueSmart Lavalier. Questo è il Lavalier che vedete qua. È un microfono comodo ma allo stesso tempo non tanto perché ha una qualità sì buona, ma non cattura soltanto la vostra voce, bensì tutto quello che sente attorno. Il Rode Video Micro invece ne sente un po' di meno. Questo invece è l'audio dell'Onair, il microfono che utilizzo per tutte le mie live, che è sempre collegato al computer e anche per l'audio non in presa diretta dei miei video. Avete sentito la differenza di qualità? Allora come potete sentire questo forse è un po' più cristallino come è auto da tutte e tre. Questo è quello un po' più avattato e l'Onair invece è quello un po' più con più bassi. Quindi possiamo già vedere che il BlueSmart è il terzo classificato che però per essere una Lavalier 12 euro è molto buono per il prezzo. Però in confronto a questi tre, se si può dire, fa proprio schifo. L'Onair invece ha un suono abbastanza cristallino però c'è troppo rumore di fondo. E non è buonissimo perché ci sono parecchi bassi e gli alti e i medi sono un po' trascurati. Il Rode Video Micro secondo me è la scelta migliore perché ci sono pochi bassi, quanto basta, e va giusto la tonalità dei medi e pochi alti. Perché se ci sono troppi alti morite fisicamente proprio. Ovviamente poi si possono andare anche a ritoccare, gli audio che avete sentito finora non sono stati ritoccati. Ad esempio posso andare ad aggiungere a Rode un po' più di bassi, posso andare a togliere un po' più di bassi all'Onair e andare a togliere l'ovattazione e quindi fare un'equalizzazione migliore su questo qua. Allora vi parlo un po' di quello che ci viene dato da confezione dei prezzi per vedere se ne vale la pena per quello che costano. Cominciamo dal modo più economico, il Blue Smart Lavalier, un microfono dalla Monica Cifra di 12€ e viene dato in questa bellissima confezione, Blue Smart in finta pelle, però veramente molto carina. Ci danno il Lavalier che è un cavo bass molto lungo, con questo accessorio che diventa per le macchine fotografiche o comunque per il computer, perché il jacking di default è per gli smartphone. Ci danno oltre a questa confezione ci danno anche un gommino di riserva, che io sinceramente non so perché ce l'ho qua, perché l'ho dato a Ludovico, quindi mi è comparso un altro. E tutto questo a ben 12€. L'Onair invece ci viene dato una comodissima confezione che al momento non ho qua, dove troviamo all'interno Onair, questo comodo cavallettino, questo cavo qua di circa 50 cm, un cavo USB e le Soundstation Mic 1648 Pro. E l'Onair ce lo danno un perezzo di circa 120€. Il Rode Video Micro costa 60€ e ci danno il microfono, ovviamente, il supporto anti-shock, che non serve per evitare di avere gli shock anafilattici, ma serve per evitare il supporto quando trema. E l'anti-vento, che è fantastico perché toglie tutto il vento possibile e immaginabile. Ci danno anche un piccolo cavo rosso, che è spettacolare, come colore, per attaccare la nostra macchina. Io in più però, per averlo così lontano, ho anche comprato una prolunga e dovuto sostituirla qualche giorno fa perché si era danneggiata. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi qual è il vostro miglior microfono tra questi tre e che microfono avete voi. Da Mike è tutto e noi ci vediamo lunedì prossimo con un prossimo video.